Vittorio Adalesso, sindaco di Mercogliano. Mercogliano, oltre a essere capitale dello sport, come avevano annunciato le nostre microfoni, diventa anche capitale dello spettacolo. Domenica ci saranno questi provini con Paola Favale della Endemolo presso il Centro Sociale Campanella. Sì, abbiamo accolto con piacere questa bella iniziativa proposta dal duo Daniele Lorenna e con piacere ho ospitato questo evento con la speranza che tanti giovani mercoglianesi possano partecipare e almeno poter aspirare a questi grandi programmi televisivi che dalla Rai a Mediaset so che si seleziona per il Grande Fratello, si seleziona per l'eredità, per tanti altri programmi importanti quindi mi auguro che possa essere d'aiuto ai nostri giovani per un lancio nel mondo dello spettacolo. Enzo Lorenno, questa è una delle tante iniziative dell'Arena Agency, la volontà dell'agenzia mi sembra che è quella di un po' mettere a frutto i sogni far sognare e fare in modo che questi sogni diventino realtà. Sì, è vero perché io da piccolo ho sempre sognato, non ho realizzato uno, almeno provo a far realizzare quello degli altri quindi per questo motivo è nata questa collaborazione tra me e Gaetano Renna di Renna Creative Agency. Stando per tanti anni un po' ormai nell'ambiente così ho fatto diversi contatti, ho chiesto a Paola, Paola Favale di venire, se era disposta a fare questa cosa qua, infatti lei ha detto subito di sì, ha abbracciato il progetto ed è curiosa di conoscere Mercogliano perché gli ho detto che Mercogliano è meravigliosa, è un borgo bellissimo e quindi lei è proprio curiosa di vedere Mercogliano. In più Paola ci ha fatto un ulteriore regalo per chi viene col marito che è un regista Rai e ci sarà anche lui a fare questi casting all'improvviso, ha deciso di venire anche lui. Sono contento perché Vittorio subito, il sindaco D'Alessio subito ci ha aperto le porte, ha abbracciato il progetto, l'ha sposato subito. Chissà che questa estate non nasca un festival tra sport, cultura, spettacolo, televisione, potrebbe essere un'idea? Ma va, ci stiamo pensando, mi hai dato una bella idea e mi auguro che questa collaborazione possa essere continuativa anche nel periodo estivo organizzando eventi che possono coinvolgere sia il mondo dello spettacolo, il mondo dello sport, il mondo della cultura e perché no avere una direzione artistica importante che potrà rilanciare quel nostro territorio. Però Vittorio, a questo punto, visto che stai pensando, pensa bene la direzione artistica. Ricordati che sei stato anche in radio in questi giorni, sei venuto da Gianni Semioli. Un saluto a Gianni Semioli che è una persona, l'ho conosciuto da poco, una persona eccezionale, quindi ci auguriamo che possa essere anche lui di supporto a questa amministrazione per rilanciare definitivamente quella che è da sempre e sempre sarà la perla dell'Irpinia. Grazie. Grazie.